buongiorno e buona pasqua a tutti voi oggi con le campane sentite che sound ma il pezzo più bello sono scatenate oggi queste campane stanno a suonare non lo so da quanto buona pasqua grazie grazie buona pasqua grazie grazie buona pasqua grazie grazie levatata bella buongiorno buongiorno ma buongiorno buongiorno no buongiorno buongiorno è morto buongiorno è morto buongiorno 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 non cazzo no ma perché pasquino pasquetta pasquino pasqualò ti tiro tutto il pelò pasquino pasqualò va via che mi vuoi alzare me l'ha comprato l'ovino di bosco cominciamo vattane tu che vuoi camminare vattane che mi vuoi alzare me l'ha comprato madonna questa croce va a stare sul lettino con voi non c'è contento vattane me l'ho comprato l'ovino di bosco mannaggia il bambino oh no eh pasqua eh attenzione allora vattane ti fa le coccolini eh che ti ho fatto oh mannaggia il bambino oh lui fino a che non mi fa per queste piante ma non è un bambino non è un bambino non è un bambino non è un bambino oh per bene basta oh basta che ti sciacca dico io un bambino ma non è un bambino mannaggia il bambino la chiesa di santa maria degli angeli sopra c'è una madonna alta sette metri tutta in oro fantastico e dentro c'è la porziunco la chiesa di san francese titi eccolo incredibile sci di fondo guardatelo che passo mamma mia che passo a Pasqua grazie buona Pasqua che bello appena tornato vestito per bene perché a Pasqua bisogna vestirsi al top vediamo un po' ambe agnello e abbiamo fatto le lasagne con i funghi porcini e salsicce i funghi porcini e salsicce patate patate arrosto e anche i supplì suppli e agnello ma che buono buona Pasqua buono Pasquino che sega buono Pasquino buona Pasqua me l'hai preso me l'hai preso l'ovino ne Pasquino ce l'hai anduto gli hai vinto lì? due c'è uno l'apri con me si apri l'ovino ne Pasqua Pasquale ok chissà se questi due uova una sarà modificata non lo so però lo vedremo nel corso della giornata quindi state sempre molto attenti per quelle sorprese ah poi c'è il video del prosciutto raga è venuta una figata dopo lo mettiamo e nulla conosce più ma perché è una dimostrazione d'affetto avevo fatto l'osso di che? del cazzo nooo fammi vedere ma perché c'è il tuo c'è l'osso fammi capire il mio ce l'ha l'osso che è una cartilagia è muscolo è muscolo ne ne osso ne cartilagia ma metta la metta nel mio vicino via qua un altro chiappa un nonno bello come te come fa prenda anche se volessi cambiare come posso fare io me ne vuoi no vabbè le minacce le minacce no le minacce no le minacce no 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 c'è ragione tutto meno tutto meno che le minacce c'è ragione le minacce no lasciamole fuori le minacce un giorno pasquale una bella domenica sì sì ma basta che t'arrivi verità anche voi a Pasqua siete vestiti come me dite la verità perché se si sta a casa l'outfit è questo cioè chi come me affronta la Pasqua così va bene perché bisogna fare foto eh ma sotto ecco l'outfit è questo cioè chi come me veste da fashion block sopra sotto tipo rimane un po' così sportivo per essere più comodo fatemi sapere perché questo è l'outfit pasquale sopra bene sotto comodo non fa una piega disse il ferro da stiro mamma mia che fashion block che so guarda 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 con gli occhi così guarda zero figa buona Pasqua oggi si inizia presto perché oh ma c'è piano eh amico fritz come c'è piano ma c'è piano oggi no oggi no guarda che pianta che c'è piano non c'è piano non c'è piano maaa senti che mi fa di matto che c'è fai gatto maaa e gli hai detto che si cammina bene no cammina bene manco tu no sono le due nonne al telefono la nonna è al telefono guardate guardate che lasagna cioè raga mamma mia raga con l'agnello non le patate supprì che secondo mangia no tu no ne è saltata una portata dal 1942 si oh eh eh ti sembra una cosa va bene dovete campare ehi ma tutto questo agnello con queste patate ripatatate con doppia patata riagnellata che dieta è se non puoi saltare e poi e tu fai due e dopo no ore 18 faremo una diretta per scambiarci gli auguri selezionerò tre che hanno acquistato dal nostro store da lunedì quindi sarà tutto fatto in diretta in più ci sarà chi vincerà la torta di f***a fatta da noi quindi ore 18 vi aspettiamo mi raccomando non perdetevi questo momento perché se no veramente la Pasqua non avrebbe senso no coccodrilli è appena uscito il video del prosciutto fate swipe up swipe 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 guardate che belli guardate che belli e andate su youtube swipe up non ti preoccupi stasera se lo mangiamo ti piace? eh? eh maria guarda che stai pià? stupià arabo ante aragon e ante maria anche lui l'abbiamo proprio l'abbiamo ormai eh? che stai pià? arabo arabo ante ante lo vino del Pasqua me l'hai preso ma come l'hai mangiato mi hai fatto me l'hai buttato anche addosso c'è un video ragazzi perché oggi abbiamo litigato si dopo pranzo c'è litigato si è arrabbiato lui perché ha aperto l'uomo domani ve lo metto il video giuro che ve lo metto lo metto ma che cazzo mi frega tu vuoi fare un pennello mannaggia oh un pennello del meriti però sei stato bene sta Pasqua sì eh? questo sta bene dentro qua si è un po' scappato poi ci riuscire a fare però siamo stati bene e basta che ti tirci fammi dormire con te ah che sera con che ora andrà a dormire? ma va a dormire che una bella sorca ma come? è una sorca come? e basta che sorca insomma se c'è anche 50 anni ci fa bene uguali non si può andare a sorca perché sei la pandemia e allora allungici e dopo? dopo? a fanculo nooo si si io ti fa un pennello ahhh alerdi ma non ti piace mannaggia il s***o no ma dici che cazzo pedic ti scacchi no io dormi dì ma vanta un letto tuo testa di cazzo vieni qua sta letto mio ma io dormi dì vattenee e dai via e dai vintoletti tuo ma dici che fammi dormi di qui all'altro 5 minuti non c'è scappato tutti i rozzicchi d'acqua fammi dormi di qui là guarda 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 che cazzo no fammi dormi di qui là oh fermati ti ho una zampata ma fammi dormi un po' di qui fammi che scappi l'elettro fammi dormi di qui dai dai aia mi fai dormi di qui o no? no oh guarda come rire quanto è contento guardate guardate fammi cascare il telefono che te ora quanto è contento ma fermati guarda insicchia ma sei scemo guarda come guarda fermati che mi strappa il figlio tu ti hai zampato un po' di coglione ah fai aia ma sta buona è Pasqua guarda come rire guardatela ecco no dove va no adesso lui userà sicuramente la violenza ragazzi la violenza è sbagliata che mi ha fatto usarla vuoi dormire qui va via che sei sombriaco va su ma che sombriaco vai vai voglio dormire qui dai no no fammi dormire a dormire tutte le notti insieme eh 63 anni via eh come farlo vai al paletto fammi dormire qui non guasta tutto laviamo a tutto la pietra fatemi dormire fatemi dormire qui sì dormire qui dormiremo in 70 coccodrilli buonanotte a tutti ci vediamo domani grazie mille per questa Pasqua insieme anche in diretta siamo stradigreativi troverò a farne sempre di più di queste dirette perché vedo che siete molti rivolti e vi piace stare a contatto con noi quindi ne dovrò fare di più babò ci vediamo domani che è sempre festa e festeggeremo insieme buonanotte